Il gruppo consigliare regionale di Fratelli d'Italia, presieduto da Guerino Testa, ha consegnato questa mattina a Pescara un riconoscimento istituzionale all'associazione ASD Uguali nello Sport Giuliano Visini per l'alto valore sportivo e socio-culturale delle attività che svolge sin da lontano 2003. La cultura dell'integrazione delle persone diversamente abili attraverso lo sport è per l'associazione sia la ragion d'essere di tutta la sua programmazione ma è anche la prova provata dei grandi risultati che si possono raggiungere sia in termini di processo sistemico nella società che di traguardi sportivi di rilievo. Binomio vincente, fondamentale, testato e certificato in tutti questi anni dall'associazione che oggi premiamo che dal 2003 opera in maniera straordinaria sul territorio provinciale utilizzando lo strumento dello sport come strumento strategico per l'integrazione. Come dice il dottor Visini non parliamo di ragazzi diversamente abili ma parliamo di ragazzi speciali che hanno conseguito risultati ed è un com' importante nel mondo dello sport e sono ad esempio per tutti i ragazzi. È fondamentale la sinergia non solo per il sociale ma anche per altri comparti ed è anche importante secondo me dare riconoscimenti ad associazioni che fanno un lavoro certosino sul territorio 365 giorni all'anno spendendo energie fisiche, economiche e finanziarie ed è giusto che la politica si occupi di loro, dia risalto alle loro attività, ai loro riconoscimenti proprio perché questi riconoscimenti sono da stimoli per tutti i ragazzi e quindi per noi oggi è una giornata importante e di queste ne faremo ancora tante perché fortunatamente Pescale e l'Abruzzo è ricca di associazioni come queste. Una grande soddisfazione perché da 20 anni che stiamo operando e oggi è il giusto riconoscimento ma non per me ma per tutti i ragazzi, la società, i genitori e quant'altro insomma anche lo staff tecnico. Noi oltre allo sport facciamo anche altre cose, l'esempio sociale, i ragazzi sono andati a fare la vendemmia quindi noi prendiamo lo sport come un momento di svago, di socializzazione e anche un modo per avere più autonomia. Oggi c'è una rappresentanza qui in regione di questi ragazzi, la disabilità deve essere anche un valore. Sì, per noi è un valore, anzi noi non consideriamo la disabilità come parola, consideriamo ragazzi speciali che possono fare tutto dando a loro i tempi giusti.